Non lo dico più. Aspetta, aspetta. Come stai? Sto bene, sto bene e mi sto riprendendo. Hai un saluto a faremusic.it di Alberto e Mara? Un saluto a faremusic.it di Alberto e Mara. Angelina, a chi la dedichi questa vittoria? La dedico alle persone che amo, al mio team che è gigante, al mio team di donne. Hai chiamato mamma? A mia mamma, mio fratello e al mio pubblico soprattutto. Senti, la canzone è bellissima, complimenti, goditi la vita e ti aspettiamo alle Eurovision. Grazie. Ciao. La conegra stanno festeggiando, hanno annunciato pochi minuti fa che ti consegneranno le chiavi della città. Oddio, che bello, che bello, è una cosa assurda. Grazie. 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 Angelina, ti ha cambiato la vita questo premio? Penso che ti cambierà la vita? Io penso che la musica cambi la vita di tutti e così anche la mia. Grazie, un bacio grande. Bravissimo.